Adesso sparo molto bene. Io sono ancora in catena rossa. Ma catena rossa va anche bene. Stai rifericando? No. Ma c'è uno di voi con me. Dove? Ma sopra. Stai arrivando, sto stai girando. Dove sei? Stai ancora in cima. Al tetto, al tetto, sì. Ah, allora avevo sentito bene ricaricare questo stava logando. I think it was blocked in... Oh my god. Ma non aveva... Ma non aveva... No, sono al tetto, normale. Ok, I will take this food. What the hell? I heard something on my back. And I was like, what the fuck is this? And I saw the guy. Cos'ha di bello.